in panchina. Significa prima di tutto che ha promosso Buonaventura centrocampista e che sta aspettando Menez. Intanto Antonelli dentro, la finta di Luiz Adriano e Onda e Milan passa subito in vantaggio. Decimo minuto del primo tempo, Milan 1 Perugia 0, il gol di Keitsuke Onda. Ma una straordinaria reazione, molto bravo a guadagnare il campo, palla al piede, Antonelli fino a tre quarti. Ha visto un movimento incontro dopo una finta staccandoci all'avversario del bravissimo Luiz Adriano, vero sotto le gambe. Onda davanti alla porta con grande calma, grande serenità, tranquillità, riesce a piazzare il pallone. E chissà che Onda non abbia sentito le parole di Amedeogoria. L'abbia deciso quindi di dare conferma a quanto diceva il nostro collega, mettendo a segno il primo gol ufficiale della nuova stagione rossonera. È un giocatore che ha grande qualità comunque. L'anno scorso giocava spesso defilato sulla corsia di destra o di sinistra. Secondo me, visto che è molto bravo negli ultimi metri, bravo nel dribbling, nell'uno contro uno, anche nello stretto, che possiede un buon tiro anche dalla distanza, più vicino gioca al limite dell'area di rigore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.